Direttore, quanto sono importanti secondo lei le associazioni italiane per l'integrazione soprattutto dei nuovi emigranti? Le associazioni italiane all'estero sono anche un patrimonio dell'italianità nel mondo e da sempre accompagnano i nostri connazionali, sono associazioni su base regionale, però ultimamente anche su base professionale, per esempio, che vengono costituite, anche in termini informali, ovviamente la rete, i social network, internet hanno aiutato i nostri italiani a incontrarsi e ad associarsi. Ecco, bisogna intercettare queste associazioni, soprattutto quelle nuove, intanto per aiutare gli italiani che arrivano all'estero ad integrarsi. E in questo le associazioni, da sempre, anche quelle storiche, hanno svolto un ruolo, come diceva lei, importantissimo. Poi bisogna anche, però, mantenerli agganciati alle istituzioni, al paese. Ecco, attraverso le associazioni si creano quei legami, non solo fra italiani all'estero, ma anche fra italiani all'estero e italiani in Italia, imprese, istituzioni italiane, che possono favorire un domani il rientro. Ecco perché sono così importanti. Ve ne sono alcuni progetti che voglio citare, che hanno avuto un ruolo veramente fondamentale in questo senso. il coordinamento delle associazioni dei professionisti di Parigi, per esempio, che raduna tanti diversi gruppi, gli universitari, i ricercatori, i medici, gli architetti che sono in quella città, e tutti insieme contribuiscono, appunto, ad alimentare uno scambio di informazioni, ad aiutarsi reciprocamente, a mantenere vivi i contatti con l'Italia. E un altro progetto analogo, però, al femminile, è la cosetta rete rosa di San Francisco, creata proprio negli Stati Uniti dal nostro Consolato Generale a San Francisco, che contribuisce a tenere agganciata, a tenere fra di loro informate, e a conoscersi anche delle realtà professionali al femminile. Anche questa è molto importante.